ma in tutti questi anni non è che io abbia imparato veramente molto forse perché sono stato iscritto in una scuola superiore sbagliata in una facoltà sbagliata ma anche perché sono stato iscritto perché ero sbagliato io ma ogni cosa che sono riuscito a imparare seriamente l'ho imparato in una cosiddetta autoistruzione e per lo più cercavo di informarmi ovi imparare le cose completamente inutili che le cose completamente inutili sono quelle più interessanti se un uomo volesse o ha intenzione di occuparsi della scrittura piccola prima di tutto deve insegnare o di occuparsi di una moltitudine delle cose completamente inutili e stupili a quanto riguarda prima domanda a quanto riguarda prima domanda io sono semplicemente mi sforzo perché i personaggi dei miei libri risultino altrettanto reali o realmente inutili grazie grazie grazie